Sono ore concitate nella casa del grande fratello Vip, a causa dell'ultimo clamoroso gesto di Baru, che vede coinvolta anche la principessina Jessica Selassie. I due sono ormai diverse settimane che sono impegnati in un rapporto particolare, ma soprattutto fatto di alti e bassi. Il noto enologo ha sottolineato più volte di vederla come una vera amica, mentre la Selassie è convinta possa nascere presto qualcosa. Ad alimentare la sua speranza è stato l'ultimo episodio che ha animato la casa, ovvero una capanna creata dal Vippone ed in cui i due hanno trascorso alcune ore. Sia il Geffino che la Selassie non hanno rivelato cosa si sono detti, ma le versioni non sembrano coincidere del tutto. Una situazione complicata che ha fatto sorgere alcuni dubbi nei telespettatori, e tra questi quello di una vera e propria strategia da parte del noto enologo. Il comportamento dell'enologo sembra dividere il pubblico, e i numerosi telespettatori hanno deciso di palesare i loro sospetti. Secondo gli utenti dei social si tratterebbe di una clamorosa strategia, furbo. Ha fatto questa capanna per tenere Jessica buona da qui alla fine. Non è cambiato niente, così azzera ogni potenziale problema facendo ancora meno di prima e senza esporsi. Secondo alcuni il suo obiettivo è senza dubbio la vittoria o almeno la finale. Voi cosa ne pensate?